Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Moro e oggi sono qui dopo circa due settimane di pausa per parlarvi della trama di Champions Truth, il primo capitolo di questo ultimo episodio di Icebrood Saga. Diciamo che la vita vera tra buone e cattive notizie in queste ultime due settimane ha preteso tutta la mia attenzione e adesso posso dedicarmi a cose un po' più frivole come appunto i video per quanto riguarda GV2. Ma non vedevo l'ora di parlare di questo nel canale perché nei video di oggi vorrei analizzare e riassumere e magari parlare anche di qualche teoria riguardante appunto questa ultima release che sebbene a livello generale non sia proprio piaciuto a tutti su alcune cose, a livello di narrativa rimane comunque decisamente interessante e godibile a mio avviso. Ma visto i commenti che mi avete lasciato sotto l'ultimo video magari utilizzerò proprio quei commenti se mi gira eventualmente per approfondire delle discussioni sul video precedente. Quindi non perdiamo altro tempo e appunto iniziamo ad analizzare Truth. L'episodio si apre con il nostro arrivo all'occhio del Nord dove Ritlock, Bram e Aurin stanno discutendo sulle mosse di Jormung, sulle sue motivazioni e su varie domande che appunto ci portiamo da dopo l'achievement confer with Vangar. Nelle prime linee di dialogo però scopriamo che cosa è successo alla guerra civile che abbiamo lasciato alle nostre spalle appunto a Dreselwood. Nel momento in cui Jormung si è risvegliato ed è sparito con Ryland nelle nebbie, a quanto pare anche la Frost Legion tutta sembra essersi in qualche modo svanita nel nulla o comunque ritirata da qualche parte. Quelli che sono rimasti sul campo sono solamente i char del Dominion che usati come appunto un esercito sono stati annichiliti dalle forze dei nostri alleati e molti di loro hanno scelto di arrendersi e quindi di accettare la sconfitta. Ma tanti altri appunto non hanno accettato la sconfitta e a quanto pare da quello che ci dice Ritlock la nuovissima imperatrice della Blood Legion appunto Krisha Stonglow si sta prendendo cura di loro. Che a casa mia vuol dire fondamentalmente li sta ammazzando tutti. Alla fine i char funzionano così quindi a me sta bene non credo sia un problema. Ed è in questo momento che Aurin inizia a parlarci di una problematica già leggermente citata durante l'achievement Comfair with Bangar. Della presenza di alcuni strani tremori nel sottosuolo che per noi mortali sono veri e propri terremoti. Infatti Aurin sostiene che qualcosa si sta muovendo nelle profondità di Tyria e che non è qualcosa di benevolo. Ben presto quando interroghiamo Bangar che ovviamente dopo poche frasi inizia a parlare con la voce di Jormag di nuovo viene rifatto il nome Primordus dal drago. Il drago del ghiaccio e della persuasione come sempre si dimostra essere un burattinaio nei nostri confronti. A conoscenza di qualcosa che ancora non ci vuole dire ci dice semplicemente che Primordus proprio come lui slash lei è ormai prossimo al risveglio e i mezzi che Primordus conosce per dimostrare la sua presenza su Tyria sono tutto furché gentili. Infatti Jormag arriva a definire i suoi stessi comportamenti negli scorsi episodi appunto con grazia, con eleganza. Cosa che manda su tutte le furie Bram, Norn che a quanto pare secondo gli Spirits of the Wild è legato a Jormag da una profezia. O Jormag uccide Bram o Bram uccide Jormag e questa cosa alla tipo Harry Potter maniera diciamo che tende a rendere Bram decisamente nervoso, il più nervoso di quelli presenti appunto durante questa conversazione. Jormag sostiene inoltre parlando con Aurin che i mortali devono smetterla di credere a false superstizioni, vengono definite in questo modo. Una fra queste è quella di Bram appunto la sua profezia e soprattutto definisce l'equilibrio magico di Tyria più volte citato appunto nel senso anche dell'alchimia eterna. Una bugia, non una cosa reale, una cosa di cui non dover tener conto. L'unica cosa che va fatta in questo momento è uccidere Primordus perché lui sarà il problema grande. Jormag sostiene infatti di essersi semplicemente difeso perché come tutti gli esseri viventi ha diritto di vivere e vuole vivere. Ed è per questo motivo che fino adesso si è mosso in questo modo attaccando, uccidendo e distruggendo ogni cosa dove lui si è espanso. Questa è la sua natura e poco ci si può fare al riguardo. Come sempre Taimi viene in nostro aiuto e ci chiama fondamentalmente per raggiungerla a Ratasum perché vuole mostrarci i risultati della sua ricerca. Infatti a quanto pare in questo periodo il commander ha chiesto a Taimi di tenere d'occhio i Mist Rift, quindi i portali delle nebbie e tutto quello che è collegato appunto alle interferenze delle leyline per cercare di capire se è possibile tracciare la presenza nelle nebbie di Jormag. Cosa che purtroppo non c'è stato possibile fare. In città incontriamo un volto noto, Gorrik che sta appunto spostando determinate casse da solo e ha alcuni problemi ma finalmente riusciamo con Ritlock a parlare con Taimi e ben presto ci approcciamo al consiglio cittadino degli Asura. E qui con nostra grande sorpresa incontriamo Ryland. Infatti gli Asura, che da sempre sono i primi nemici di Primordus, hanno stipulato con Ryland e la sua Frost Legion una tregua che è a dir poco inquietante ma tecnicamente funzionale. Infatti nessuno ha nascosto il disappunto, nessuno ha nascosto i timori. Bram soprattutto che ancora vuole il suo arco indietro non nasconde l'odio che prova nei confronti di Ryland e di tutti i minion di Jormag. Però gli Asura, specialmente i più anziani del consiglio, sembrano essere molto intrigati dalla presenza di questa fazione all'interno della città perché ne possono sapere di più sui draghi. L'unico modo che ha Jormag per sconfiggere Primordus è conoscere meglio i suoi punti deboli che non comprendano la sua presenza come drago. Quindi l'alleanza con gli Asura gli è sembrata l'idea migliore da fare mandando Ryland e la Frost Legion come fondamentalmente ambasciatori. Ed è per questo che appunto l'episodio si chiama Truss, tregua in inglese. Durante appunto le ricerche comunque di Taimi scopriamo che Jormag è abbastanza introvabile a livello tecnico. Non riusciamo a trovarlo, ma la cosa più importante è il fatto che alcuni terremoti sono diventati estremamente più forti all'interno delle terre di Tyria e vanno quanto prima controllati. Questo perché c'è qualcosa che sta emergendo da queste aree dove ci sono appunto i sismi. La stessa Rata Sum risulta essere a quanto pare parte integrante di questo schema e in poco tempo la zona è piena di destroyers. Purtroppo in questo modo dobbiamo combattere fianco al fianco dei nostri stessi nemici e coprirci le spalle a vicenda. Come dirà più avanti lo stesso Ryland, la nostra morte non è utile alla sconfitta di Primordus. Dobbiamo restare tutti vivi perché tutti abbiamo un ruolo. Dopo che abbiamo salvato il laboratorio di Tymi ci dirigiamo verso il porto di Rata Sum dove Bram, lasciato lì per svaporare un po' la rabbia, e Gorrik stanno avendo problemi con dei destroyer. Destroyer molto particolari perché a quanto pare sono usciti anche dall'acqua del mare, da una sorta di acqua che stava ribollendo all'interno del porto. Una volta salvato l'intero consiglio, decidiamo di tornare tutti insieme a parlare con gli Asura per capire che cosa dobbiamo fare. Tymi dunque ci manderà alla ricerca dei vari posti segnati sulla sua mappa energetica dove ci sono stati dei terremoti anomali perché in quei luoghi potrebbero uscire fuori dei destroyer e lei stessa si mette sul campo, visto che uno di questi luoghi è molto vicino a Rata Sum, ovvero Metrica Province. Per questo motivo parte una vera e propria caccia ai destroyers. Prima di andare però all'effettiva ricerca dei destroyers riusciamo a tornare all'occhio del nord dove qui troviamo Aurin ancora in tenta a discutere con Jormag attraverso Bangar. Infatti il Drago del Ghiaccio sostiene che non ci sia altra via che uccidere Primordus e corre negli armamenti è la cosa più importante che si può fare. Inoltre fa presente che i suoi campioni, in particolare Ryland, essendo totalmente collegati con il Drago stesso, gli permettono di vedere e sentire qualsiasi cosa al quale loro assistono. Per questo motivo decidiamo in maniera un po' insordina di non dire più troppo in presenza di Ryland. Altra cosa importante nel momento in cui Jormag abbandona la conversazione è che noi giocatori cerchiamo di convincere Aurin ad unirsi alla battaglia fisicamente e a darci una mano. Il Drago sostiene che l'equilibrio in realtà è ancora molto importante secondo lei e un terzo Elder Dragon che si metta a combattere per la magia non è la cosa ideale della situazione. Questa volta non posso fare niente, ci dice. Vai avanti tu, io vi aiuterò come posso. Ed è in questo momento che il giocatore ottiene appunto la Masteries legata alle Dragon Response Mission che, sebbene siano appunto parte di gameplay meno apprezzate, contengono comunque molta storia. Il primo luogo dove andremo è appunto Metrica Province. Qui Bram sta cercando di salvare quanto più gente possibile dai Destroyer e con il nostro aiuto riuscirà nell'intento, almeno questo è il pre-event che appunto ci si presenta davanti. Poco dopo inizieremo poi con l'aiuto di Taimi e una squadra di supporto che sceglieremo nel caso di andare a fare delle ricerche. È molto interessante vedere come i due personaggi che sono sì molto legati da un forte legame di amicizia su questo tema siano molto in disaccordo. Taimi, che ha le ricerche sotto mano, dice che il pericolo attuale per Tyria è Primordus. Non è Jormag con i suoi modi di fare. Anzi, la sua, diciamo, quasi fiducia in Ryland e Jormag spaventa anche noi giocatori in qualche modo. Seppure lei stessa ammetta che non ci si può fidare al 100%. E se Jormag diventerà poi un problema, ci penseremo più tardi. Ma al momento è Primordus il problema, di certo non il Drago. del ghiaccio. Inoltre, Taimi fa degli esempi molto interessanti. L'esempio su Aurin, che anche lei è un Elder Dragon, eppure lei appunto collabora con noi, non è contro. E poi fa un paragone di come gli avversari a volte possono allearsi per un fronte comune e diventare amici. In questo caso, citando Logan e Ritlock. Bram, dal canto suo, conscio del fatto che tutti gli Asura abbiano scelto questa tregua con Jormag solamente per avere l'occasione di uccidere Primordus, il Drago che li ha spinti al di fuori delle loro terre originarie, dice di non fidarsi di Jormag e che tutto quello che sta succedendo è sì pericoloso. Ma Jormag non va preso sul serio, non bisogna seguirlo, non bisogna dargli spazio di entrare dentro di noi per poi ritrovarsi usati appunto come delle marionette. Inoltre è molto interessante il fatto che sembra quasi maturare la profezia, la morte della madre, il furto dell'arco e soprattutto questa nuova capacità che gli permette di percepire l'arrivo dei Destroyer dove sono prima degli altri, alquanto anomala, sembrano far crescere il personaggio a livello proprio mentale, molto più di quanto magari l'età stia facendo in maniera diciamo appunto regolare. Questa cosa incute molta preoccupazione nel Commander che ha paura che Bram possa non reggere appunto tutta questa pressione. Durante questa missione infatti alla fine incontreremo un grosso Destroyer che verrà comunque eliminato dalla collaborazione di tutti e tre, Taimi, Bram e noi Commander, ma allo stesso tempo una leggera frattura tra le idee dei due personaggi si è sicuramente creata, perché Bram appunto non vuole dare nessuna mano a Jormag mentre Taimi ha consente comunque a collaborare con loro e a dargli informazioni preziose su come poter sconfiggere i Destroyer e perché no lo stesso Primordus. La seconda missione ci porterà a Brisbane Wildlands in un insediamento silvari dove troviamo appunto Kate che sta combattendo i Destroyer da sola nella speranza di poter salvare quanta più gente possibile. Ed è qui che fa la sua comparsa Ryland Steelcatcher, questa volta da solo, senza nessun membro della Frost Legion, perché sostiene che attualmente non c'è bisogno di avere un grosso esercito, da soli possiamo farcela. Ed è durante il tragitto, nonostante il grande disagio che si prova nell'aria è molto interessante vedere la conversazione tra questi tre personaggi. Alla fine, noi giocatore, Kate e Ryland, sono le uniche tre persone sottili che possono dire con certezza che cosa si prova appunto ad avere un legame con un Elder Dragon. Ryland però sostiene che le mostre di Aurin siano sbagliate e che il potere che il Drago ha sia comunque molto grande, ma che non lo stia sfruttando a dovere. Ed è qui che nasce una simpatica, diciamo, diatriba tra lui e Kaif, dove parlano appunto delle differenze dei loro draghi. In una Aurin che ti permette di scegliere e di restare ciò che sei, è di un Jormag che amplifica forse quello che sei, però prendendo controllo della tua vera identità. Dei modi di fare, dove il Jormag rimane nell'ombra fino all'ultimo, mentre Aurin fa appunto scegliere e preferisce difesa, ordine e controllo. Mentre Jormag sceglie una politica dell'attacco e della conquista che dovrebbe appunto in qualche modo cambiare le carte in tavola. Ryland infatti sostiene che Aurin con la sua posizione stia appunto mantenendo uno status quo, qualcosa che comunque non è destinato a permanere, anzi dovrebbe essere cambiato forzatamente ed è per questo che le sue forze e lui stesso stanno combattendo per Jormag così tanto. Inoltre critica molto Aurin, diciamo nei nostri confronti, quelle del giocatore e ovviamente quelle di Keith, nel fatto in cui non ha scelto di condividere tutto quello che sa con il proprio campione, cosa che invece a quanto pare Jormag ha fatto. Tutto quello che Jormag conosce, lo conosce anche Ryland. Questa cosa però, nella nostra testa di persone libere al di fuori di una corruzione effettiva, ci fa molto riflettere sul fatto che Keith sì è stata tramutata, ma è stata scelta e su richiesta, cioè che Aurin ha fatto una domanda a Keith che lei stessa ha voluto accettare e noi come campione ci fidiamo di Aurin perché abbiamo per lei un rapporto appunto di amicizia, quasi appunto parentela che ci lega ed è molto diverso comunque dal legame che c'è tra Jormag e il suo campione. Durante questo lungo discorso escono fuori temi molto interessanti che portano a delle riflessioni molto profonde a livello dei draghi. Immagino che solamente andando avanti con la storia nei prossimi capitoli scopriremo chi ha realmente ragione, ma questo incontro a mio avviso segna un momento molto importante dove il commander riconosce palesemente il doppio gioco da parte di Jormag ancora più di quando già non facesse e per questo motivo inizia a avere delle remore molto più grandi ancora più di prima per quanto riguarda Ryland e tutto ciò che la Frost Legion rappresenta per appunto il mondo di Tyria. La terza missione ci porta a Gendaran Fields alle porte di Arco del Leone. Infatti in quest'area i Destroyer anche qui stanno facendo un gran casino tra fiamme, morte e distruzione e qui troviamo due grandi donne a confronto Javi appunto attualmente comandante totale generale dei Vigil anche se il ruolo non le è stato dato da nessuno a livello tecnico perché lei aspettava con ansia il rientro di Larantir il secondo di Almorra che a quanto pare questa cosa non avverrà quindi lei ha preso il comando degli interi Vigil e di Marjorie appunto abbiamo Marjorie che ovviamente già negli episodi precedenti collaborava molto con i Vigil e con la necromante Javi le due hanno delle idee decisamente diverse la prima vuole vincere la guerra contro i Destroyer in maniera totale e salva il salvabile non si mette a pensare troppo alle vittime della situazione cerca di limitare i danni quanto può e eliminare il nemico anche se questo vuol dire lasciar morire della gente innocente Marjorie invece dal canto suo vuole salvare ogni singola persona che è in difficoltà perché secondo lei questa è la cosa più importante la diatriba che nasce tra le due non è molto legata al mondo dei draghi quanto più ha un'idea diciamo morale di azione Marjorie sostiene che è inutile combattere per un mondo se si lascia morire la gente innocente perché non c'è tempo per salvarli ed è in questo caso appunto dopo aver sconfitto un ennesimo grande destroyer che nasce in quest'area e ci porta a un combattimento prolungato dove anche degli alleati ci daranno una mano riusciamo finalmente al nostro intento e scopriamo anche un grande malumore che a quanto pare c'è in Marjorie per qualcosa che riguarda Kazmir con la quale sembra non comunicare da tempo e il mistero su che cosa sta accadendo tra le due donne è davvero ancora molto turbido ma immagino che lo scopriremo molto presto con questa diatriba tra Javi e Marjorie si conclude la narrativa effettiva e concreta di questo episodio poi torneremo appunto all'Orchia del Nord dove Lady Camilla uno degli NPC più inutili della storia di GV ci farà presente su che cosa sta succedendo e da lì sono poi partiti i due eventi che sono stati fatti attraverso le Dragon Response Mission nelle ultime settimane ma la narrativa per ora termina qui con un attendiamo quello che verrà poi ed ora ragazzi possiamo parlare più liberamente e magari speculare su qualcosa appunto con qualche teoria anche che è uscita su internet per quanto riguarda Truss la storia di questo episodio ragazzi ora io oggi ve l'ho riassunta quanto più mi è stato possibile all'osso ma giocandola a mio avviso risulta essere davvero molto godibile ha delle problematiche a mio avviso come una degli utenti che mi ha commentato nello scorso video ha fatto notare con una troppa semplificazione in alcune scelte di dialogo perché sappiamo per certo da molto tempo che i draghi non possono essere uccisi quindi il nostro cercare di combattere Jormag era un palliativo un tentativo di limitarne il potere e trovare qualcosa per impedire il suo risveglio o comunque adesso cercare di rimandarlo a dormire adesso che c'è di mezzo anche Jormag stesso con Ryland che vuole a tutti i costi uccidere il fratello con il quale ha un particolare legame che ancora ci sfugge risulta ancora più ovvio che noi non possiamo collaborare con i draghi nella virtù appunto del fatto che uccidendo Primordus non accadrà nulla a Tyria stavamo quasi per morire durante Flashpoint quindi non è proprio una grande idea a livello tecnico se non fosse che forse qualche parola di Jormag nonostante lui slash lei diga tantissime cose potrebbe essere la realtà visto quello che ci attenderà in End of Dragons che è ancora un mistero ma sappiamo essere legato ovviamente ai draghi potrebbe essere che effettivamente il disegno dell'alchimia eterna questo ordine cosmico dei draghi non sia poi così necessario alla fine della storia per Tidia se c'è qualcosa che può sostituire questo meccanismo o comunque un mezzo o un sistema per poterlo cambiare nonostante questo gli errori fatti notare nel modo in cui specialmente timing si pone nei confronti di Jormag versus Primordius sono effettivamente un po' pericolosi nel senso non possiamo dire a un personaggio dobbiamo impedire che draghi muoiano e poi magicamente da un episodio all'altro torna con l'idea di voler uccidere ogni singola cosa è vero che le cose vanno lette tra le righe quindi non credo che uccidere sia inteso nel senso di oh ammazziamo il drago effettivamente e facciamo danno ma comprendo che in un certo contesto in questo episodio possa essere leggermente confusionario perché dopo 8 anni di storia ci sono delle regole che sono state basate molto ferre e dopo la morte appunto anche di Krakator che siamo stati fortunati ad avere Aurin ma nel futuro forse non avremo questa fortuna e noi mortali non ne sappiamo abbastanza la seconda cosa che possiamo dire è il comportamento di Aurin nella descrizione della storia del personaggio sul pannello eroe cosa che invito alla lettura ogni volta che si finisce un episodio perché è sempre più ricca di particolari della storia effettiva viene fatto notare come la sua assenza sul campo di battaglia sia in qualche modo da imputarsi alla sua volontà di permettere a noi mortali di scegliere che cosa vogliamo a dare a noi il libero arbitrio questa cosa è forse vera ma allo stesso tempo comincia ad essere estremamente pesante come faccenda il fattore che Aurin sia un elder dragon e abbia tecnicamente delle risposte che non condivida o peggio non le abbia fatto comincia ad essere effettivamente poco gradevole per noi giocatori che in questo drago abbiamo praticamente una figlia che adesso è diventata più forte più intelligente più tutto di noi che ha una visione globale del mondo e delle energie che si muovono in maniera mistica eppure non condivide nulla a meno che come sempre tutto questo non faccia parte di un grande piano essendo lei tecnicamente profetica però non lo possiamo effettivamente sapere inoltre poi c'è il discorso di Bram questo episodio è chiamato Champions questo episodio di Vision 4 che appunto vi ricordo sono Truth Power Balance e Judgment vedrà più campioni dei draghi scontrarsi tra di loro quindi su internet è nata una teoria che vede in qualche modo in Bram un ipotetico pseudo campione di Primordus visto la profezia che lo lega alla morte del drago di ghiaccio potrebbe essere che Bram riuscirà in qualche modo a ottenere un fuoco che può sciogliere appunto il ghiaccio di Jormag e in qualche modo essere la causa effettiva della sua morte ma detto questo il discorso a mio avviso è molto interessante e plausibile visto le capacità che ha dimostrato in questa ultima release ma allo stesso tempo la cosa è un po' preoccupante se Primordus dovesse avere un campione io dubito fortemente che Bram rimarrebbe il Bram che noi conosciamo buono e gentile e coglionazzo quindi diventa problematica la faccenda però non ci scordiamo che il titolo di questo episodio è Champions quindi campioni e non credo si possa riferire solamente a noi e a Ryland possiamo metterci in mezzo anche Cave ma sicuramente ce ne saranno degli altri ed è qui appunto che la cosa si fa in maniera alquanto interessante ultima teoria che gira sulla rete parla del drago del mare il famoso Bubbles Steve come volete chiamarlo che appunto non si è mai palesato in 8 anni di Guild Wars 2 questo drago però rappresenta neanche a farla apposta un elemento che si avvicina in qualche modo all'unione che c'è tra il fuoco di Primordus e il ghiaccio di Jormag ovvero l'acqua o comunque qualcosa che appunto potrebbe annichilire entrambi l'acqua fondamentalmente è ghiaccio e può soffocare il fuoco non permettendo ossigeno alle fiamme quindi che ci sia qualcosa di non detto al riguardo che ci sia un legame con il fatto che gli ultimi tre draghi rimasti sono appunto questi e se la morte di questi draghi Primordus e Jormag dovesse arrivare insieme per colpa di questo fantomatico drago delle acque noi ignoriamo effettivamente chi sia quella voce femmina che abbiamo sentito nel teaser trailer di Kanta ma a questo punto io spero che il drago del mare sia un drago a sé stante e che Mother chiamata da Kralcatorry che sia un'entità superiore qualcosa che vuole cambiare tutto ma bisogna vedere effettivamente dove andremo a parare la trama sta prendendo una piega estremamente piacevole a mio avviso è intrigante per quanto mi riguarda ma ho paura da morire per quello che potrebbero fare perché a mio avviso come ho detto nel video precedente Flashpoint per quanto è interessante rimane un pallino scuro sulla trama di Guild Wars 2 perché legare due draghi in questo modo è stata a mio avviso un'idea molto pericolosa perché ha scombinato tutto quello che era fino a quel momento ordinato per quanto riguarda il mondo degli Elder Dragon dove ogni drago antico ha come debolezza principale la cosa che lo rende forte Zaitan è il drago dei morti e il poter comandare solo i morti lo rende debole perché se non ha cadaveri e non ha creature morte non ha un esercito e quindi è debole contro i vivi Mordremoth è il drago della mente e delle piante riesce a comandare ogni cosa mentalmente eppure ha una difesa della propria di mente che è una cosa molto scema e bastano tre persone che riescono a infilarcesi dentro per metterlo fuori gioco Kralcatorrik è debole ai suoi stessi cristalli ai cristalli che lui stesso emette ed ai cristalli della sua progenie il fatto che Primordus e Jormag siano deboli l'uno all'altro è un po' particolare sembra un po' che abbiano voluto citare a suo tempo Goth in qualche modo ma il punto è che a mio avviso questa storia non mi è realmente piaciuta anche perché vorrei che spiegassero un po' di più le parentele tra i draghi ma ci sono tantissime idee che mi possono venire in mente e io vi chiedo anche a voi appunto giocatori che cosa ne pensate che cosa vi ha colpito di questa trama e che cosa vi aspettate dal futuro di questo franchise io ragazzi termino qui termino qui il mio ulteriore papiro gigante di informazioni per quanto riguarda trusse e le informazioni che abbiamo sull'ipotetico futuro del franchise vi ricordo che in descrizione trovate tutto quello che c'è di importante per la community italiana e i social network e noi ragazzi ovviamente ci vediamo con un prossimo video magari riesco a farne uno prima di Natale e poi ci si vede direttamente con l'anno nuovo quindi tenete duro e buone feste a tutti ciao ragazzi